Preparo lo schermo, un attimo solo, ti preparo lo schermo così potrai fare vedere anche le pagine internet Eccoci qua, prego, questo è il microfono Ah perfetto, credo che si senta tutto forte e chiara Sì, alza un po' il tono della voce Ah beh sì sì sì, ok, innanzitutto buongiorno a tutti gli amici che stanno seguendo la web tv radicale Giunta al suo secondo numero dopo domenica scorsa E siamo altresì arrivati al secondo numero della nostra rassegna stampa internazionale Ok, ho parlato a vuoto, che è successo? Ah ok, no 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 Ah perfetto, allora cerchiamo di renderla un attimino più scorrevole e meno paludata della volta scorsa Naturalmente sono tutte le insidie che si nascondono dietro al numero zero di qualsiasi trasmissione Quindi quest'oggi abbiamo meno tempo, però abbiamo più giornali da prendere, più notizie da prendere in esame Allora, mi fanno ampi cenni dalla regia No, stavo dicendo che vado a fumare Ecco, praticamente mi informano che il regista va a fumare insomma Allora, quindi io direi di partire dalle Figaro, giornale francese Giusto per rimanere in tema di droghe, antiproibizionismo, proibizionismo affini C'è un reportage molto interessante e scioccante Firmato da Patrick St. Paul Che parla di una storia tedesca Praticamente c'è un ragazzo, di un bambino, anzi di 11 anni Che è stato trasformato in un trafficante di droga Sfruttando le falle della giurisdizione tedesca Perché secondo la legge tedesca Secondo la legge tedesca I minori al di sotto dei 14 anni beneficiano dell'impunità Quindi non possono essere perseguiti per i propri atti E quindi la criminalità organizzata ha praticamente escogitato questo espediente Per implementare il narcotraffico nella zona di Berlino Però secondo la nostra notizia Il problema riguarda tutta la Germania Naturalmente si analizza il senso di frustrazione Delle forze dell'ordine tedesche Che si considerano totalmente impotenti E incapaci di reagire a questo fenomeno E appunto Il caso preso in esame è quello di Ali Un bambino di 11 anni, di origine palestinese Che è un rifugiato dal Libano Che è stato praticamente arruolato dai boss del narcotraffico E addestrato Alla sua missione di corriere della droga Se non chiede, voglio dire ovviamente Il problema riguarda molti altri minori Ancora che è una stima precisa del fenomeno Non è ancora stata fatta Però gli inquirenti tedeschi sospettano appunto Che questo sia solamente la punta di un iceberg E che il problema riguardi diverse centinaia Se non qualche migliaio di minori Che viene utilizzato per questa mansione Da parte della criminalità organizzata Questo è naturalmente un mattone in più Che si aggiunge alla nostra analisi Riguardo alla fallacia totale Delle politiche proibizioniste Di qualsiasi tipo, di qualsiasi sorta Per rimanere sempre in tema di droghe affini Prendiamo dal Washington Times Il giornale conservatore americano Vicino alle posizioni del partito repubblicano Che pubblicano una notizia In base alla quale La marijuana per La cannabis terapeutica La marijuana per uso medico È stata accettata Per quanto riguarda l'amministrazione americana In amministrazione Obama Il governo dice che i pazienti trattati È dall'associazione veterani Praticamente un'associazione che cura I veterani delle guerre americane Praticamente questo uso Il governo ammette l'uso della cannabis terapeutica Nei 14 stati Dove l'utilizzo è legale Incluso il colorato Quindi è una direttiva ufficiale Del dipartimento degli affari Dei veterani Quindi alla sanzione ufficiale Diciamo di Washington E quindi è un importante Comunque un importante tassello Anche qua nella direzione Una seppure cauta Ma abbastanza decisa Via verso la rivisitazione Delle politiche Delle politiche americane sulla droga Ricordiamo che la svolta La grande svolta americana In tema di guerra Di guerra alla droga Avvenne con la presidenza Reagan Ed è diciamo uno dei lasciti Meno felici e più pesanti Di quella presidenza Anche perché poi le conseguenze Sono state devastanti Per quanto riguarda ordine pubblico Implementazione dei costi E soprattutto Una situazione molto allarmante Alla frontiera meridionale Degli Stati Uniti In particolare Negli stati settentrionali del Messico Dove è in corso Da qualche anno Una vera e propria Sanguinosissima guerra Tra i cartelli della droga E le autorità federali messicane Che ha provocato qualcosa come Oltre 20.000 morti In pochi anni Quindi sono dei segnali Dei piccoli segnali Dalli Stati Uniti Che la politica sulle droghe Sta per essere modificata Ulteriore segnale Se fosse necessario Quello già accennato Una trasmissione di Claudia Sterzi E di Gina Fiume A novembre ci sarà Un importante referendum In California A riguardo appunto La cannabis terapeutica Ed può essere Diciamo il battistrada Per un ulteriore Salto più deciso In direzione di politiche Se non antiproibizioniste Perlomeno un attimino Più di buon senso E passando Diciamo dai temi Riguardanti droga Antiproibizionismo Alla politica estera Anche se poi in realtà Con la droga Ha molto a che fare L'argomento che stiamo Per trattare Parliamo infatti Di Afghanistan In Afghanistan La situazione È sempre più Fuori controllo Da liberazione Prendiamo la notizia Che 5 soldati americani Sarebbero stati uccisi Nella giornata di ieri E 2 sarebbero Scomparsi È una situazione Molto preoccupante Dicevamo perché Dal 2001 Dall'anno in cui È stato rovesciato Il regime Dei talebani Dall'intervento Internazionale Sotto leggi da Nato Il numero Delle vittime È cresciuto In una maniera Esponenziale È quasi raggiunto La cifra simbolica Di 2.000 2.000 soldati Della coalizione Internazionale Morti In Afghanistan Dall'intervento Nel 2001 Di questi Ben 1.200 Sono americani Non solo Vi è stato Un aumento Delle vittime Negli ultimi Anni Dovuto Alla Ricudescenza Dell'insorgenza Talebana Appunto Ma abbiamo anche Una perdita Di controllo Su diverse Diverse zone Del paese E Ovviamente Abbiamo anche Per converso Purtroppo Un crollo Diciamo Della Credibilità Delle Delle Neo-istituzioni Democratiche Afghane In primis Per quanto riguarda La presidenza Karzai Il governo E Il potere reale Del paese Che purtroppo Come sappiamo O come non sappiamo Perché molti media Ovviamente Non fanno riferimento A questo Il potere reale Purtroppo In Afghanistan Stanno è passato Nelle mani Dei signori Della guerra Che Ecco qua Il link Con quanto Dicevamo Prima Purtroppo Sono Interessati In prima persona Al narcotraffico Ricordiamo Che l'Afghanistan Ovviamente È il primo Il primo produttore Mondiale Mondiale Di oppio Quindi È un problema È un problema Che si trascina Che si trascina Da anni Risolto Purtroppo Quel Fardello Di politiche Proibizioniste Portate avanti In primis Dagli Stati Uniti Però naturalmente Anche dagli organi Sopranazionali Come l'ONU Con le sue varie convenzioni Ovviamente Ha avuto il prodotto Di Solo il prodotto Diciamo Di agevolare Lo sporco lavoro Della Della guerriglia Integralista E il ritorno Di fiamma Dei Dei talebani Dunque Sì Quindi Stavamo Cercando Quindi questo Per quanto riguarda L'Afghanistan Ma di ora Abbiamo un link Purtroppo Non funziona Del Daily Telegraph Del Daily Telegraph Tornava Sulla notizia Dell'Afghanistan Praticamente Affermando Che questi due Questi due Soldati americani Spariti In realtà Sarebbero stati Rapiti Dalla Dalla guerriglia Talebana E quindi Citando fonti Appunto Fonti Della Diciamo Della Dell'informazione Guerrigliera Talebana Passando Diciamo Ad altro argomento Sempre a proposito Anzi no Sempre a proposito Relazionandoci Con l'Afghanistan Ice News Che è un sito Una webzine Molto molto interessante Che raccoglie notizie Da tutta la Scandinavia Anche se in modo particolare Dall'Islanda Pubblicano Uno studio In base al quale I soldati I soldati Finlandesi Che sono impegnati Nella Nella Coalizione internazionale In Afghanistan Saranno Soggetti Diciamo A trattamento Psicoanalitico Al loro ritorno Perché sono stati Diciamo ravvisati Tutta una serie Di problematiche Di disturbi Che hanno Che hanno appunto A che fare Con la situazione Che si sono dovuti Che si sono trovati Ad affrontare Nel paese Medio orientale Che ricorda un po' Un po' Gli argomenti Di certa cinematografia Americana Sul Vietnam Sui problemi Di integrazione Del Vietnam Insomma È una storia Che si ripete Purtroppo In questi decenni Non si vede Come si possa uscire Perché appunto Purtroppo La guerra Continua ad essere Uno strumento Di risoluzione Delle controverse Internazionali Purtroppo Questo è il portato Di questi ultimi decenni Passando Dall'Afghanistan Poco più giù Alla penisola Indocinese Parliamo di un paese Che purtroppo Ha avuto Un momento Di attenzione Da parte Di media internazionali Finito sotto i riflettori Però Di cui però Si parla Sempre troppo poco A nostro avviso Anche perché È stato Teatro Di uno dei più Spaventosi massacchi Genocidi Che la storia Dell'umanità Ricordi Parliamo ovviamente Della Cambogia Che dal 75 A 79 1975 1979 Fu Governata Da Regime Comunista Sanguinario Dei Khmer Rossi Che fece Secondo alcune stime Fino a 1.700.000 morti Disseminando Diciamo Questo Piccolo Paese Indocinese In uno sterminato Cimitero Cimitero All'aria Aperta Insomma E praticamente Fra molte Difficoltà Fra Grandi Reticenze Delle Delle Autorità Continua Ad andare avanti La serie Di processi Che vede Alla sbarra I principali Gerarchi Della Dittatura Dei Khmer Rossi Dopo la scomparsa Di Pol Pot Che era il leader Carismatico Il principale Responsabile Del genocidio Di cui Facevamo Testare Riferimento Altri Personaggi Rilevanti Del regime Dei Khmer Rossi Sono In questo momento Sotto processo Ad esempio L'Independent Giornale inglese Si sofferma Sul processo A carico Del cosiddetto Comandante Duc Che è il principale Diciamo Ufficiale Operativo Quello che Quello che Curò Tra virgolette Tutta l'organizzazione Dei killing fields Che praticamente Erano appunto I campi della morte Dove I deportati Dalle città Cambogiane Venivano costretti A turni Massagranti Di lavoro E poi Soppressili Dalle guardie Rivoluzionarie E quindi Questo processo È simbolico Perché riporta L'attenzione Su una pagina Atroce Della storia Cambogiana E mondiale Che come dicevamo Purtroppo Ha questa singolare Caratteristica Di terminare Un po' troppo spesso Nel cono d'ombra Della grande Informazione Internazionale L'independente Viceversa Fa un lavoro Pregevole Nel senso Che Oltre In fondo All'articolo Vengono Pubblicati I principali Processi A carico Dei dirigenti Dei dirigenti Che merossi Che sono stati Già Messi in atto Oppure sono ancora In corso E vengono citati Appunto I diiter Principali Che Usan Pan Ex Presidente Della Repubblica Jensarieger L'ex Primo Ministro E altri Esponenti Diciamo Di spicco Del regime E viene Altresì Pubblicata Una 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 scheda Cronologica Piuttosto completa Che ripercorre Tutte le vicende Del massacro Cambogiano Il finale Diciamo Dell'articolo E' tragico Perché appunto Riporta Queste cifre Aghaccianti In base Alla quale 1.700.000 Persone Si stima Che 1.700.000 Persone Siano Morti Per Le politiche Dei Kmer Rossi E quindi Chiudiamo Con questa Fredda Diciamo D'esamina Matematica Che ci riempie Ancora oggi Di orrore E di angoscia Passiamo All'Inghilterra Rimaniamo Su un giornale Inglese Che è il Guardian Il giornale Diciamo Liberal Progressista Il Guardian Diciamo Pone l'attenzione Sul Sul dibattito All'interno Del partito Laborista Voi sapete Che il partito Laborista È uscito Con le ossa Rotte Dalle elezioni Dalle elezioni Di maggio Praticamente Duramente sconfitto Da quella Che poi Diventerà La coalizione Liberal Conservatrice Guidata Da David Cameron E naturalmente Si è subito Scatenata Giubilato Gordon Brown E molti hanno visto Come il capo Espiadoro Il principale Responsabile Della crisi Di credibilità E della sconfitta Del partito Laborista Si è subito Scatenata Ovviamente La guerra Alla successione Di Gordon Brown Ed è una guerra Fratricida Nel senso Che i principali Protagonisti Di questa lotta Sono i fratelli Miliband Il più esperto E maggiore Di età David Che è stato Ministro Degli esteri Del governo Di Gordon Brown E il più giovane Ed Anche lui Ministro Della precedente Compagine Ministeriale Laborista Ed Guardian Appunto Si sofferma Su un colpo Messo a segno Dal minore Dei fratelli Miliband Che avrebbe guadagnato L'appoggio Di una delle più Importanti Trade unions Uno dei principali Sindacati britannici Che è Unite Però lo stesso articolo Sottolinea Che il fratello David Ha comunque Raccolto Un consenso Molto Importante All'interno Della macchina Del partito laborista In città In città Molto importanti Come Birmingham E Newcastle E praticamente Sono diciamo Sappiamo che Il partito laborista È forte Soprattutto Nelle Grandi aree urbane Quindi Assicurarsi Diciamo Un pacchetto di voti Di due città La seconda E terza città Inglese Come Birmingham E Newcastle È molto importante Quindi Il tenore Dell'articolo È che praticamente Il fratello Diciamo Avantaggiato In questa lotta È ancora Debite Comunque Non mancheranno Nei prossimi Settimane Nei prossimi mesi Ulteriori Colpi di scena È comunque Una lotta Abbastanza Abbastanza interessante Insomma Anche perché Ovviamente Non si esclude Che la coalizione Liberal-Conservatrice Al governo Possa trovare Degli scogli Molto Ostici Molto ostici Nelle prossime Settimane Già per esempio C'è stata una prova generale Un paio di giorni Io sono Allora quando In Parlamento Nick Clegg Il leader Dei liberal-democratici Si è lasciato Spuggire Diciamo Sempre a proposito Di Afghanistan Il fatto Che appunto Si trattasse Di una guerra Di una guerra Illegale Tendenzialmente Illegale Fuori legge Come naturalmente Anche noi Anche noi radicali Ovviamente Andavamo Andiamo Continuiamo A dire Ricordiamo L'iniziativa Di Marco Pannella Su Iraq Libero Il processo Il processo Diciamo A George Bush Richiesto A gran voce Da Marco Pannella E naturalmente Questo mette in ambasce La parte Conservatrice Che chiaramente Ha appoggiato L'iniziativa Di George Bush Dell'alleato Americano Nell'invasione Dell'Iraq E quindi Nelle prossime Settimane Non si esclude Che andremo Incontro A ulteriori Colpi di scena Acceleriamo Perché il tempo Ci manca Abbiamo Ancora poco Tempo A nostra disposizione Passiamo Al centro Europa Passiamo All'Ungheria A un sito Molto interessante Che si occupa Di politica Ungherese Si chiama Politics .u H-U Praticamente In questo sito Viene citata Anche qui La situazione Del governo Ungherese Anche in Ungheria Si è votato In primavera E ha trionfato L'opposizione Liberal Conservatrice Di Fides Guidata Da Victor Orban Che è ancora Un giovane Politico Conservatore Ungherese Che nonostante La giovane Età Appunto E sulla ribalta Con tutte Tutte queste caratteristiche Che conosciamo Che si chiama E si chiama Jobbik Una spina Affermando Della corruzione Ci facciamo Mancare nulla Giusto perché Continua a piovere Sul bagnato Il Wall Street Journal Il principale Quotidiano Economico Americano Finanziario Economico Americano Pubblica Un articolo Un'analisi Allarmante Secondo la quale Le agenzie Di rating Internazionali Avrebbero Messo Sotto esame Avrebbero Allertato L'Ungheria A proposito Del deficit Sappiamo Che nei mesi Settimane scorse Ci fu Un allarme Un allarme Appunto Sulla tenuta Dei conti pubblici Ungheresi Che scatenò Una tempesta Diciamo Sull'Euro Alimentò I dubbi Su un potenziale Crollo Dell'Euro E niente Questi Timori Non appaiono Infondati Nel senso Che appunto Le principali Agenzie Di rating Si preparano Ad un sostanzioso Taglio Della Credibilità Della Sostenibilità Della Valutazione Diciamo Sulla sostenibilità Del debito Sovrano Ungherese E quindi Anche qui Nelle prossime Settimane Purtroppo Avremo Diciamo Andremo In contro A prevedibilissime Nuove Ulteriori Turbolenze Per quanto riguarda L'assetto Dei mercati Finanziari Internazionali E questo Naturalmente Voglio dire Fa seguito Ovviamente Anche Alla Crisi Greca Che è tutt'altro Che è risolta Sappiamo Che c'è stato L'intervento Della comunità Internazionale Economica Ma La situazione Tutt'oggi È molto Preoccupante Potrebbe Ripresentarsi Tale E quale Se non Aggravata Fra Poco Tempo Fra un paio D'anni Quindi Situazione Veramente Monitorata Da giorno Per giorno Dagli Osservatori Internazionali Non è detto Come taluno Affermato Taluno Esperto Economico Affermato Che Le agenzie Di rating Appunto Agevolano Soltanto Il lavoro Sporco Della speculazione Purtroppo Bisogna Dire Che ci sono Degli stati Che non Sono stati In grado Di gestire Le proprie Finanze Ed è bene Che le colpe Vengano fuori Che le responsabilità Della politica Dei politici Vengano Finalmente fuori Senza andare A scomodare I fantasmi Della speculazione Internazionale Che ovviamente Molte volte Vengono utilizzati Come una specie Di spauracchio Secondo dinamiche Purtroppo Conosciamo A proposito Di Europa orientale Ci spostiamo Un po' più Più su Dell'Ungheria Andiamo Nella Repubblica cieca Anche qui In primavera Ci sono state Delle elezioni E c'è un nuovo governo Di centro-destra Libero al conservatore Con una maggioranza Abbastanza solida Ci viene ricordato 118 seggi Su 200 Guidato da Peter Nechas Che era Un membro Del partito Civico-democratico Di esse Che è il partito Il partito Del presidente Václav Klaus È un partito Diciamo Libero al conservatore Che si connota Per una Per politiche Liberiste Abbastanza Abbastanza Pronunciate E per altre Caratteristiche È un partito Di destra Che comunque Sulle libertà civili Ad esempio È abbastanza È abbastanza Aperto A differenza Di altri partiti Di altri partiti Di uguale collocazione Su cui ovviamente Richiamo Richiamo la vostra attenzione Però ovviamente Sappiamo Sappiamo Di quale partito Di quale compagine politica Stiamo Stiamo parlando Praticamente Il governo Della Repubblica cieca È un partito Una coalizione Di tre partiti Uscita vincitrice Dalle elezioni Che comprende Oltre all'ODS Altri due partiti T.O.P.09 Che è un partito Erede Diciamo Del partito Cristiano Democratico Che si è Dissolto Uscito dal Parlamento E il partito Affari pubblici Che è un partito Collocato In una posizione Più centrista Allora Quello che è interessante Sono diciamo Uscite più o meno Le linee Le linee maestre Su quali saranno I programmi Della coalizione Tra i principali Tra i principali Punti All'ordine del giorno C'è La ricerca Naturalmente Di una Di riforme Per quanto riguarda L'economia Si andrà A tentare Di incidere Sulle politiche Sanitarie E sul deficit Quindi Si annunciano Diciamo Riforme Molto decise Per quanto riguarda La previdenza Il sistema pensionistico E anche per quanto riguarda La possibilità Diciamo Dell'apertura Anche Del ritorno Diciamo Alla possibilità Di utilizzare Fondi Fondi privati Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il sistema previdenziale E la possibilità Diciamo Di ritorno Anche alla concorrenza A una concorrenza Pubblico Privato Per quanto riguarda Per quanto riguarda La sanità Altro Altro tema Diciamo Dell'agenda Di governo E L'accompletamento Del 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 reattore Del reattore Nucleare Di nuova generazione Che praticamente Potrà Diciamo Fornire Una Una quota Importante Del fabbisogno Energetico Energetico Ungherese Quindi Una decisione Che si pone Un po' In controtendenza Rispetto All'andazzo Generale Che era Quello Di uscire Se non Di rinunciare Diciamo L'opzione nucleare Anche se Dobbiamo dire Questo è il secondo Caso Perché anche La Finlandia Tempo fa Ha sospeso La moratoria Sulla Sulla costruzione Di nuovi impianti Nucleari Quindi Sembrerebbe Diciamo Che la politica Si stia Europea Si stia un po' Ricredendo Su questo Argomento Che rimane Sempre Come noi Ben sappiamo Piuttosto Controverso Naturalmente Ultimo tema Ma non importante L'agenda Di governo Del Nuovo Esecutivo Ceco E appunto Una maggiore Prudenza Per quanto riguarda L'adesione All'Euro Sappiamo Diciamo Che L'ODS Il partito Principale Di governo È sempre stato Molto Cauco Nei confronti Dell'Unione Europea Dell'adesione Della Repubblica Ceca All'Euro E se non che Anche gli altri Partiti Della coalizione Hanno raggiunto Questa posizione Quindi Per il momento Si preferisce Soprassedere Ad un'eventuale Affiliazione Della Repubblica Cieca All'Euro Da proporre Dopo Un dibattito Molto approfondito Naturalmente Si presuppone Si allude Anche a un possibile Un possibile Referendum È molto importante Il coinvolgimento Della popolazione Sul debitamento Informato Ovviamente Su una decisione Una decisione Importante Una decisione Molto importante Perché praticamente Andrebbe ad alienare Una quota Una quota Importante Della sovranità Nazionale Delegando All'Unione Europea Alla gestione Della politica Della politica Monetaria E quindi Sembra una decisione Comunque molto Lungimirante Che altri paesi Hanno preferito Su cui altri paesi Hanno preferito Glissare Insomma Passando Bypassando L'opinione pubblica Per Approvare L'adesione Dei trattati Costituzionali O alleo Tramite Il semplice Passaggio Passaggio parlamentare Dunque Ultimo Ultimo giornale Per oggi Ultimo giornale Per oggi Torniamo Sul Washington Times Che analizza Lo stato Lo stato Dell'arte Sulla campagna elettorale Dei Stati Uniti A novembre Si voterà Per le importantissime Mid-term election Che praticamente Consistono Nel rinnovo totale Della Camera Dei rappresentanti Nel rinnovo Di un terzo Del senato E nel rinnovo Contestuale Di 37 Dei 51 governatori Dei Stati Uniti La campagna elettorale È molto Accesa È molto Interessante Già da qualche mese Non fa mancare Diciamo Sorprese Clamorose Interventi Diciamo Al calor bianco La presidenza Di Barack Obama È molto In difficoltà Soprattutto Per quanto riguarda L'economia Una buona maggioranza Di americani Vede Molto negativamente Gli interventi Dell'amministrazione Obama Per quanto riguarda L'ambito economico E citiamo Soprattutto I salvataggi Diciamo Delle grandi Banche d'affari Coinvolte Nel Nel crollo Dei mutui subprime Citiamo Il salvataggio Delle grandi Industrie Americane Soprattutto L'industria Automobilistica E citiamo Non ultimo Diciamo L'ultima Riforma Tra virgolette Dei mercati Finanziari Che viene vista Molto 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 male Diciamo Non solo Dagli ambienti Di Wall Street Però anche Da una buona parte Degli americani Che ha I suoi I suoi Risparmi Diciamo Investiti In borsa Poi naturalmente Va da sé Che comunque Uno dei temi Che è stato La miccia Dello scontento È stata quella Della riforma Sanitaria Perché ovviamente Molti Molti americani Non la vedono Non la vedono Diciamo Di buon occhio Nonostante Diciamo L'immagine Che sia passata In Europa È stata quella Di una grande Di una grande Riforma Perché si copriva Si copriva Diciamo Un segmento Della popolazione Americana Che non Aveva copertura Copertura sanitaria Omettendo il fatto Che in America Esistono Diciamo Dei programmi Comunque Di 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 Ausilio Nei confronti Delle classi Più Più svantaggiate Mi riferisco A Medicare E Medicaid Che appunto Sono i due Programmi Federali Che Si occupano Della Sanità Per quanto riguarda Gli anziani E le classi E le classi Più Disaggiate Quindi Non esiste Diciamo Una vera Propria Una mancanza Diciamo Di copertura Sanitaria Oltre a questo Naturalmente Il tema fondamentale Su cui battono I grandi Mediaconservatori È L'aumento Esponenziale Della pressione Fiscale Che ovviamente Gli eviterà In una maniera In una maniera Appunto Molto Molto Pronunciata Nei prossimi mesi Appunto Alimentando la spirale Perverso Del deficit L'indebolimento Della moneta Nazionale L'articolo Washington Times Ovviamente Dà conto Delle critiche Che sono Più o meno Queste Dei conservatori Repubblicani Americani Omettendo Però Ci sembra Una considerazione Fundamentale Che adesso Facciamo Un attimino Noi Dal nostro Piccolo Punto Di osservazione Ricordiamo Che poi Il partito Repubblicano È Il principale Responsabile Della Dell'attuale Situazione Di crisi In cui Versa L'economia Americana Perché La politica Di Bush Ricordiamo Che è una politica Scriteriata Di tagli Fiscali Senza Tagli Alla spesa Quindi Praticamente Una politica Di tagli In deficit Che Alla fine Ha avuto Come effetto Quello di Ingigantire Il deficit Federale Senza Affrontare Questo Problema Il problema Che poi Ammonte Che i repubblicani Non hanno risolto Che comunque È data Da tempo Più Importante Da almeno Due decadi È quello Appunto Della Sostanziale Inflazione Monetaria Patrocinata Dalla Banca Federale Dei Stati Uniti Dalla Fed Che Praticamente Ha continuato A stampare A stampare Dollari Che poi Sono stati Venduti Ad altri Paesi La Cina In primis In questo Senso Gonfiando A dismisura La quantità Di moneta Fiduciaria In circolazione Quindi Purtroppo Causando Questa Esplosione Questa Crisi Finanziaria Che si è Manifestata Drammaticamente Con L'esplosione Della cosiddetta Bolla Immobiliare Susseguente Al crollo Diciamo Dei cosiddetti Mutui Subprime Mutui A costo Zero Causati Dalla Politica Scriteriata Della Banca Federale Dei Stati Uniti Che Tenendo Il tasso Di sconto Artificialmente Basso Ha costruito Questa vera e propria Bolla Speculativa Che ha Esplosa Dando I risultati Che vediamo Una crisi Spaventosa Ai livelli Del 29 Se non Peggiore Insomma Di fronte a tutto questo Non si intravedono Diciamo Non si intravedono Soluzioni Da parte Né Dell'amministrazione Obama Né Dell'opposizione Repubblicana Che appunto Si limitano A rimandarsi La palla Accusandosi Di politiche Interventiste Stataliste Salvo poi Una volta Arrivati All'altimone Del paese Del grande paese Americano Ovviamente Continuare Esattamente Con lo stesso Tipo di Con lo stesso Tipo di Politica E quindi Questo è Il quadro Più o meno Della situazione C'è un C'è Quest'analisi Appunto Del voto Che sarà Novembre E Washington Times Ovviamente Essendo Chiaramente Di parte Presagisce Diciamo Un esito Un esito Favorevole Ai repubblicani Con la Riconquista Da parte Appunto Del GOP Del Partito Repubblicano Della Camera Dei Representanti E un Indebolimento Notevole Della maggioranza Democratica In Senato Quanto Poi Questo Possa Realmente Garantire Una Appunto Come Dicevamo Una Reale Svolta Per quanto riguarda La politica Economica Non solo Economica Degli Stati Uniti Ricordiamo Le guerre In cui Sono Impegolati Gli Stati Uniti Quanto Questo Possa Costituire Una Svolta Non È Dato Capire Insomma Vedremo All'indomani Del voto Se ci sarà Qualche 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 Ricaduta Dal punto Di vista Della Politica Reale Perché Anche Negli Stati Uniti La politica Appare In crisi Dopo L'ubriacatura Obamiana E Purtroppo La delusione Sta montando Sia Per quanto riguarda Come dicevamo La politica Dell'amministrazione Sia per quanto riguarda Quella Portata avanti Dall'opposizione Repubblicana Non a caso Un fenomeno Come quello Dei Tea Party Nasce Come Come movimento Anti-establishment Per criticare Appunto La politica Statale Degli Stati Uniti In generale Non una Una O Una Sola Parte Quindi Staremo a vedere Anche qui Si prospettano Degli Sviluppi Piuttosto Interessanti E quindi Questo era L'ultimo articolo La nostra Rassegna stampa Noi ci risentiamo Fra poco E naturalmente Rimandiamo Per un altro numero Della rassegna stampa Domenica prossima E adesso ci prepariamo Ai successivi collegamenti Della nostra trasmissione Un saluto a tutti Arriva Roberto Ecco Salvatore Arrivo anche io Ai Mi sono fatto male A te la palla A me la palla Chi c'è in chat Innanzitutto Vediamo Troppo Armeggiando Con i link Non ho Non ho avuto modo Di rispondere Alle eventuali domande Della chat Che non ne vedo Non ci sono